è un mercato molto complesso e sofisticato c'è un'enorme organizzazione se ogni leader se spendesse un po di tempo potrebbe essere su di giri sia per l'equanimità che per l'esuderanza potrebbe fare miracoli per chi sei e il lavoro che stai facendo la leadership ha molto da imparare dall'organizzazione naturale di ciò che accade nel mondo specialmente dal suolo e la vita su di esso è l'operazione più complessa che esista per quanto grande sia la tua azienda qualsiasi operazione complessa tu stia facendo non è niente in confronto a ciò che sta accadendo proprio sotto i tuoi piedi sotto forma di suolo è un mercato molto complesso e sofisticato un milione di volte più complesso di qualsiasi mercato azionario nel mondo quindi la leadership a qualcosa da imparare dalla natura in particolare dal suolo e da tutta la vita che ci circonda perché è un organismo è un'organizzazione colossale stiamo cercando di costruire organizzazioni in modo lineare abbiamo degli amministratori delegati nella mia comprensione una d significa un organismo completamente coinvolto è una d invece di questo diventi un funzionario il che è un errore se me lo chiedi perché il tipo di gestione che stiamo facendo è come curare un giardino se hai un giardino curato beh è bello non nei miei occhi però ma in generale è bello per le persone a cui piace avere tutto sotto controllo ma se non gestisci e mantieni il tuo giardino dopo soli 30 giorni o 60 giorni o forse 90 beh il tuo giardino scomparirà completamente eccoci in questa foresta non sappiamo da quanto tempo sia qui nessuno lo sa diciamo un milione di anni per milioni di anni si è gestita da sola perché questo è il potere degli organismi la natura ciclica degli organismi come si autogestiscono tutti parlano di sostenibilità non puoi pensare alla sostenibilità puoi percepire la sostenibilità solo dal modo in cui è fatto il costrutto della natura e soprattutto se ogni leader persone che gestiscono situazioni complesse nella vita se trascorrono un po' di tempo se non ogni giorno almeno nei weekend o nelle vacanze se trascorrono un po' di tempo in connessione col suolo beh ti abbiamo già parlato del microbioma VAC i batteri presenti in vari aspetti del suolo nelle tame di vacca e in molti altri posti se sei semplicemente a contatto con questo se il tuo corpo e i tuoi piedi sono sul suolo semplicemente ispirando lo puoi capire il microbioma VAC stimola la nostra risposta neurobiologica generando serotonina questo significa che se facessi questo nel weekend durante la settimana potresti essere strafatto di equanimità ed esuberanza e questo è veramente vitale per i leader perché quando un leader di cattivo umore la vita di molte persone diventerà spiacevole e alla fine quello che creiamo potrebbe essere una conseguenza orribile estremamente importante che le persone che sono in una posizione di leadership che hanno il potere di determinare il corso della vita di altre persone è estremamente importante che queste siano strafatte di vita fatte non di alcol non di droghe ma di vita stessa perché la vita è la chimica più complessa se gestisci bene questo essendo in contatto con la fonte della vita che qui è il suolo acqua naturali beh questo potrebbe fare meraviglia a ciò che sei e al lavoro che stai facendo e al mondo intero quindi eccomi seduto su questa piccola isola che sta perdendo un po' no no Adi non significa diventare un'isola tra le persone diventi un'isola nel mondo perché sento ripetere il mondo delle imprese che significa diventare un'isola no non si tratta di diventare un'isola diamo una nuova descrizione di Adi organismo completamente coinvolto o se ti piace chiamarti amministratore amministratore completamente coinvolto iscriviti al nostro canale